Elisa Garbini, ospite eccezionale di Pianeta Volley e come intervistatrice di Sara Bruni. Oggi 18 punti per lei, che domande gli possiamo fare Elisa? Allora, Sara Bruni detta cucciola perché penso che lo vorrebbero sapere tutti. Sara, parlaci della partita, come l'hai vista? È stata una partita molto impegnativa, sapevamo che era difficile venire qua a Marciano, a venuta e niente, con il primisetto è bene, poi dopo abbiamo avuto un po' un piccolo flake out, ma lo saputo è andato abbastanza bene. Tu Sara ora ti senti in forma, finita la batteria, visto che aveva piccoli problemi al ginocchio. No, la settimana ho risentuto un po' al ginocchio e inizio partita abbastanza bene, poi dopo piano piano. Scusate ma da dietro mi dicono di alzarmi, che non ci arrivo, dai si abbassa, riusciremo almeno a fare un'intervista recente. Una terza domanda, chi me la suggerisce? Cosa ne pensi della partita del prossimo salto?